Dopo sei mesi di pausa torniamo a parlare di Major League Baseball, lo sport professionistico americano deve ancora prendere il via con l'ultima lega delle quattro più grandi del continente americano, ovvero il baseball, che partirà il 26 marzo con l'opening day 2020. E' tempo dunque per il mio canale di presentare quella che sarà la stagione 2020, partendo però da quello che è successo nelle World Series 2019. E' microfoni, Matthew Torgan e dunque ultimo video di presentazione dopo aver fatto quello sui campionati motoristici, in particolare Formula 1, MotoGP e Superbike, tempo ovviamente anche della MLB. Tra l'altro questo video avrà un format un po' diverso rispetto agli altri video podcast di presentazione, faremo una sorta di riassunto di quelle che furono le World Series dell'anno scorso, valuteremo le squadre secondo dei power rankings di un sito notissimo americano per queste cose e approfondiremo ogni singolo roster, almeno per quanto riguarda i primi 10 team classificati, altrimenti il video esce veramente lunghissimo, già che non esca lungo in questo modo. Parliamo dunque di quello che è successo l'anno scorso, il 30 ottobre, e abbiamo assistito a un evento storico, ovvero la prima World Series vinta da parte dei Washington Nationals, squadra capitolina che ha avuto l'onore e l'onere di cavalcare di fatto l'Apost Season dalla Wild Card battendo i Milwaukee Brewers, passando per la sconfitta ai danni dei Los Angeles Dodgers, poi ai danni dei San Luis Cardinals e infine la grande impresa contro gli Houston Astros, sicuramente i favoriti del tabellone una volta arrivati alle World Series dell'anno scorso. Tra l'altro questa vittoria dei Washington è storica non solo perché è la prima, dopo la prima partecipazione, ma anche perché per la prima volta nella storia il fattore campo nella MLB è saltato. Hanno vinto infatti tutte le squadre che erano in trasferta e questa World Series addirittura è arrivata alla settima partita, un qualcosa di clamoroso e incredibile. E dunque celebriamo questa stagione 2020 che inizierà il 26 marzo, data tra l'altro confermata dallo stesso commissioner della Major League Baseball, ovvero Rob Manfred, appunto con quello che è successo lo scorso anno, con Washington campione. Quello che però dobbiamo andare ad analizzare adesso è chi sono i potenziali favoriti della stagione 2020 e per farlo ci siamo aiutati con un sito che è lineups.com, sito che appunto va a stabilire in base al mercato fatto, allo sprint training e anche un po' a tutto il contesto delle squadre, chi saranno i maggiori prospetti di questa stagione. E dunque partiamo perché secondo questo sito i Los Angeles Dodgers saranno i prospetti numero uno addirittura della Lega che verrà 2020. Dunque secondo questo sito la squadra losangelina che da anni ha cavalcato l'onda della Major League Baseball, essendo la squadra che ha speso di più in tutta la Lega, sembra essere la favorita per vincere il titolo ovviamente sulla carta. Poi magari succede come l'anno scorso che i Dodgers al secondo turno dei playoff sono di fatto andati fuori senza se e senza ma. Sicuramente i Dodgers hanno fatto degli investimenti sul mercato, partono da un monte di lancio veramente solito che di fatto è il secondo migliore in tutta la Lega. Hanno acquisito Mookie Betts e David Price in uno scambio a tre che ha coinvolto Boston, Minnesota e appunto gli stessi Los Angeles Dodgers. E questi sono sicuramente degli ottimi acquisti per la formazione losangelina che ancora una volta punta a vincere quel titolo che manca veramente da tantissimo tempo. L'ultimo titolo dei Dodgers fu vinto nel 1980, almeno fine anni 80. Il secondo prospetto di questa classifica sono gli Houston Astros e non potrebbe essere altrimenti finale persa lo scorso anno da netta favorita. Titolo vinto nel 2017, il monte di lancio dovrebbe essere ancora una volta il punto forte nei soliti Grand Key Everlander. Staremo a vedere cosa potranno combinare i Texani in questa stagione 2020. Terzi prospetti sono i New York Yankees che in realtà sono da pesare molto perché durante l'off season hanno avuto diversi infortuni, soprattutto per quanto riguarda il monte di lancio, soprattutto James Paxton e Luis Severino. E dunque bisognerà capire come si muoveranno gli Yankees nel mercato che comunque vi ricordo è aperto fino al 31 luglio. 3 Deadline per quanto riguarda la MLB. I campioni in carica dei Washington Nation sono classificati come quarto prospetto in totale da questo sito lineups.com. Sono campioni in carica, hanno fatto veramente una cavalcata clamorosa per le World Series 2019. Hanno confermato Steven Strasburg dalla free agency e hanno fatto qualche colpo. Sicuramente hanno avuto anche qualche perita ma comunque lo vedremo più avanti nell'approfondimento per le prime dieci squadre in prospetto. Washington comunque per la Conaca parte da un record di 93 vinte e 69 perse. Scendendo dunque la classifica passiamo dalla quinta alla nonna posizione. Quinti classificati in questo classifica generale dei prospetti gli Atlanta Braves. Squadra sicuramente in cresta, squadra che sono arrivati finalmente alla postseason dopo che hanno investito tantissimo nel corso degli anni. Hanno fatto un acquisto incredibile che è Marcelo Zuna e un altro acquisto fondamentale in free agency che è un lanciatore con la Hamels. Il record dell'anno scorso è il 97-65 record che di fatto gli ha fatto permettere di vincere la National League East. Che anche quest'anno ragazzi sarà una divisione veramente combattuta stile bagno di sangue. Sesti classificati, i Tampa Bay Rays che proveranno ancora una volta a competere per i playoff. Hanno fatto un grandissimo percorso di cresta sia nel 2018 sia nel 2019 dove sono arrivati a contendere. Comunque qualche partita nel corso del primo turno divisionale dei playoff. È una squadra molto giovane, il lavoro dell'allenatore si è visto e l'ossatura di fatto più o meno è rimasta la stessa dell'anno scorso. Comunque anche in questo caso vedremo nell'approfondimento che faremo successivamente. Ci sarà probabilmente da difendere il secondo posto nell'American League East ai danni dei Boston Red Sox. Squadra che anche quella è chiamata a un riscatto clamoroso dopo quello del 2019 che in realtà è stato mancato. Attenzione a Oakland. Oakland che è data veramente in forte crescita. Settimo prospetto per la formazione californiana. Partono da una buona base i californiani con Matt Chappan e Matt Olsen e potrebbero migliorare ancora magari con non dei colpi altisonanti ma sicuramente con degli acquisti mirati proprio in stile Moneyball. Quasi il film che ha ispirato appunto le Oakland Athletics anche nella cultura popolare non soltanto americana. Attenzione a Minnesota per quanto riguarda invece la American League Central. Ottavo prospetto in generale, primo però di questa divisione, sembra veramente la squadra lanciata a vincere. Quella che è la divisione centrale bisogna vedere però quella che sarà l'eventuale salto di qualità che la formazione di Minneapolis potrà fare negli eventuali playoff. Il colpo è importante sia sul monte di lancio sia in terza base ma lo vedremo ovviamente più tardi nell'approfondimento. Nono classificati sono i Philadelphia Phillies che ovviamente vengono da una stagione direi fallimentare. Hanno concluso esattamente al 50% delle vittorie. Avevano preso Bryce Harper per competere per i playoff fin da subito. Gli hanno clamorosamente cannati i giocatori di Philadelphia ed è necessario ovviamente un riscatto incredibile da parte dei Phillies. E vedremo se Bryce Harper riuscirà a riscattarsi dopo che di fatto la sua ex squadra, ovvero Washington, tra l'altro ha vinto il titolo nell'anno successivo al suo addio. Questo è stato veramente un colpo secondo me che il numero 3 dei Phillies dovrà sicuramente riscattarsi. Decimo classificato, i miei New York Mets che sono di fatto una grandissima incognita appunto perché devono sperare che ritorni qualche infortunato dal lungo corso. Per esempio gli Unis Cespedes dovranno cercare in qualche modo di piazzare altri colpi sul mercato. Sembra una squadra comunque solida, vengono da una stagione discreta ma non eccezionale. Vedremo cosa potranno fare. I Mets sono stati coinvolti peraltro nello scandalo che ha licenziato di fatto Carlos Beltrana, scandalo che aveva coinvolto Houston e Boston nei segnali rubati. Hanno nominato un nuovo manager, vedremo come si comporterà nella stagione che verrà. Gli altri prospetti andiamo dall'undicesima alla quattordicesima. I Chicago Cups si aspetta sicuramente qualcosa di interessante dalla formazione di Chicago che ha vinto il titolo nel 2016 dopo che appunto hanno spezzato la maledizione ultracentenaria. Sicuramente può essere un buon colpo Hugh Darvish che è stato probabilmente la punta di diamante di questi Cups. Vedremo se sarà in grado il giapponese di portare i Cups a un livello veramente accettabile. Successivi ci sono i Cleveland Indians che sembrano lanciati verso il secondo posto nell'American League Central. Hanno di fatto puntato tutto su Francisco Lindor. Ovviamente non potrebbe essere altrimenti la stella portoricana degli Indians. Sicuramente ci sarà da lavorare. Hanno comunque ceduto Trevor Bauer nello scorso mercato. Ci sarà da lavorare per la formazione dell'Ohio. Tredicesimi prospetti. Milwaukee Brewers che hanno comunque tenuto Christian Yelich. Inizia tra l'altro di qualche giorno fa. Dandone una sensazione contrattuale veramente clamorosa e incredibile. Per dieci anni il numero 22 esterno rimarrà con la formazione del Wisconsin. Ed evidentemente sarà lui il go-to guy dei Brewers. Quattordicesimi sono i posto al Red Sox. Come dicevo prima dovevano riscattarsi da una stagione disastrosa lo scorso anno. E in più hanno avuto lo scandalo dei segnali con Houston. Hanno ceduto David Price e Maeda a Los Angeles Ponda Dodgers. Hanno comunque Chris Sale che comunque non dovrebbe partire nell'opening day. Perché è infortunato. Insomma Boston sembra più un cantiere aperto che altro. Staremo a vedere cosa potrà combinare la formazione del Massachusetts. Che tra l'altro ha acquistato Ron Roenighi come nuovo allenatore al posto di Alex Cora. Che è stato esautorato dopo lo scandalo dei segnali rubati. Quindicesimi prospetti Cincinnati Reds. Squadra che storicamente era nella terra di nessuno. È stata competitiva per metà stagione dell'anno scorso. Poi si è spenta. Ma ha preso sì Trevor Bauer. Poi sicuramente bisogna fare attenzione anche a ulteriori nuovi acquisti che sono riportati qui. Ovvero Mike Mustacas e Nicolas Castellanos. Il primo dai Brewers. Il secondo proviene dai Chicago Cubs. Sedicesimi prospetti gli Arizona Diamondbacks. Che non sono più la squadra che con J.D. Martinez, con Zach Grein. Che era tentata diciamo di arrivare ai playoff. Anche loro sembrano una squadra veramente lasciata alla terra di nessuno. Soprattutto in una division quella ovest della National League. Che ci sono di fatto dei grossi squilibri. Ovvero i Los Angeles Dodgers soprattutto. E poi gli altri si giocano veramente le briciole. Ci sono i St. Louis Cardinals a 17esimo posto. Anche qui non sono più la squadra di un tempo. Sono comunque arrivati ai playoff. Il sito lineups.com non gli dà tanto credito per questa stagione. Sicuramente perché devono ancora sistemare il lineup per via dello sprint training. Che non è andato secondo me secondo le aspettative dei Cardinals. Sicuramente va tenuto presente però che la formazione di St. Louis ha nel Memphis Redbirds. Ovvero una delle squadre di AAA affigliate a loro. Una delle fucine più importanti di talenti. E non ce ne sono pochissimi che sono in giro dalle B provenienti dal vivaio Cardinals. I San Diego Padres sono successivi in questa classifica. 18esimi per loro è sicuramente una squadra giovane di prospettiva. Possono puntare tutto su Manny Machado che è il go-to guy. Manny Machado ha un passato ai Los Angeles Dodgers prima. E soprattutto ai Baltimore Orioles. Altri acquisti importanti sono più che altro per il futuro. Soprattutto Chris Paddock e Fernando Tatis. Uniti a qualche veterano come per esempio Eric Osmer, Tommy Pham e appunto lo stesso Manny Machado. Staremo a vedere. La squadra del giocatore più forte del mondo invece si piazza il 19esimo in questa speciale classifica. Gli Angels ancora una volta sono di fatto Mike Trout. Una serie di giocatori interessanti che non hanno mai fatto il salto di qualità. E secondo questa classifica anche la Session 2020 sembra di questo andazzo. Vedremo cosa combineranno gli Angels che veramente hanno un giocatore sontuoso. Ovvero il 27 Mike Trout e poi tanto tanto potenziale purtroppo ancora inespresso. Altra squadra che comunque ha fatto degli interessanti acquisti nel corso dell'off season sono i Chicago White Sox. Che devono riscattarsi anche loro da stagioni anonime. Anche loro sono una squadra nella terra di nessuno. Hanno acquistato Yasmani Grandala. Hanno rifirmato Jose Abrea. Hanno rifirmato recentemente Ioan Moncada. Hanno comunque acquistato gente interessante come appunto Edwin Encarnacion e anche Nomar Mazzara. Encarnacion era svincolato. Mazzara viene dai Texas Rangers. I canadesi di Toronto Blue J sono classificati al 21esimo posto. Altra squadra che non è più quella di un tempo dove c'era il poker della paura con Bautista, Encarnacion, Donaldson e anche Troy Tullovitsky. È una squadra giovane che può essere considerata in ricostruzione. Non la vedo comunque a una stagione di vertice la squadra di Toronto. Così come non vedo bene né Texas né altre squadre che vedremo successivamente. Texas è in una divisione dove appunto Houston e Oakland di fatto se la giocheranno e gli altri saranno veramente lasciati a se stessi. Stesso discorso vale per i Seattle Mariners che vedremo più avanti. Ventitresimi classificati Colorado Rockies. Stesso discorso che si può fare secondo me per quanto riguarda la divisione OVS della National League. Dodgers soprattutto. Se gli può andare bene ai Rockies si può accedere a un posto wildcard. Ma per la competitività di quella divisione che è veramente scarsa o vinci e batti i Dodgers oppure veramente non ti qualifichi anche ai playoff perché altre divisioni sono veramente più competitive. Basta pensare alla National League Central o alla National League East. Seattle Mariners, San Francisco Giants e Miami Marlins sono squadre che non mi aspetto abbiano delle stagioni incredibili. Stesso discorso vale per i Kansas City Royals che sono 27esimi, Pittsburgh Pirates che sono 28esimi, Detroit Tigers che sono 29esimi e chiudono i Baltimore Orioles che sono ovviamente la squadra che tankerà ancora una volta di più in questa stagione. Baltimore che ha preso la scelta numero uno all'anno scorso che è Audrey Roachman. Non lo vedremo però già in questa stagione probabilmente già nel 2021. Comunque le ultime squadre che vedete in questa classifica sono di fatto destinate al tank. È una stagione veramente anonima e orrenda. Approfondiamo quello che invece sono le squadre più importanti ovvero i primi 10 della formazione di lineups.com che appunto ha classificato dai Dodgers ai Mets le prime 10 squadre. I Dodgers sono classificati appunto come il primo prospetto di tutta la MLB per vincere il titolo. Il manager è sempre lo stesso Dave Roberts. Quello che è stato fatto dai Los Angeles Dodgers è stato veramente fare un acquisto incredibile ovvero lo vediamo qui il numero 50. Boogie Betts in quella trade famosa che coinvolse Kenta Maeda a Minnesota. Il posto è stato fatto che tra l'altro insieme a Betts hanno ceduto David Price che di certo non è quello che è arrivato ai playoff con Toronto. Non è quello che è andato ai playoff con Detroit. È sicuramente un lanciatore comunque di esperienza di tutto rispetto. E attenzione perché il mondo di lancio dei Dodgers fa paura e anche il suo attacco perché i possibili partenti di questa sezione potrebbero essere sicuramente lui, Clayton Kershaw e non potrebbe essere altrimenti, sicuramente David Price e non potrebbe essere altrimenti, Julio Urias potrebbe essere un quarto partente possibile, Ross Tripling potrebbe essere un quinto partente possibile. Insomma c'è veramente tanta carne al fuoco senza dimenticare che sul monte rilievi c'è Kelly Jensen il giocatore con la maglia numero 74 l'olandese che è uno dei closer più impressionanti che abbia mai visto negli ultimi anni a questa parte. Gli altri acquisti sicuramente interessanti e gli altri giocatori meglio che possono essere interessanti. Per intanto sono sempre gli stessi da anni, Corey Seager non abbiamo bisogno di presentazioni, uno degli intervassi giovani più forti di questa Lega, il sempre verde Justin Turner è uno degli slacker più potenti di questa Lega, Cody Benninger manco ne stiamo a parlare, è uno che potrebbe contendere tranquillamente ogni anno il titolo di MVP della National League. Insomma ce ne sono veramente tanti giocatori interessanti dei Dodgers ed è faticoso non metterli al primo posto ancora una volta come potenziale. Poi ovviamente il baseball ci insegna che tutto è possibile, ci sono dei ribaltoni clamorosi, nessuno l'anno scorso si aspettava la vittoria di Washington e vedremo se per la prima volta i prognosti saranno rispettati. È difficile ma chi lo sa. I secondi prospetti erano i campioni in carica diciamo del 2017 ovvero gli Houston Astros che dopo lo scandalo di Alex Cora di cui vi ho già parlato in un video precedente hanno assunto Dusty Baker lo storico manager prima dei Chicago Cups poi dei Washington Nationals e ancora una volta il numero 12 ha avuto un'occasione per portare probabilmente ai playoff e chissà forse alla vittoria una squadra secondo me molto molto titolata. Come diceva l'articolo di Naps.com il punto di forza di Houston è sicuramente il monte di lancio hanno sicuramente in Zach Renke un prospetto importante su cui puntare. C'è sempre un Justin Verlander che comunque è un lanciatore di tutto rispetto e bisognerà vedere se tornerà ai livelli storici. Punto di forza altro importante di Houston sono gli interni Oseo Altuve su tutti Alex Bregman non abbiamo bisogno Carlos Correa idem come sopra e anche Jujleski Gurriel come potenziale. Secondo me è un parco interni interessantissimo e attenzione a Houston se dovesse veramente ingranare. È andato a un passo da vincere il secondo titolo in tre anni l'anno scorso l'ossatura è rimasta la stessa. Vero hanno seduto Garrett Cole ai New York Yankees ma la squadra rimane comunque di tutto rispetto. Senza contare magari altri esterni appunto come possono essere Michael Brantley e George Springer. Passiamo avanti con i New Yorkers appunto che hanno acquistato Garrett Cole appunto dagli Houston Astros. Garrett Cole è un uomo che può secondo me cambiare di tanto la stagione degli Yankees soprattutto sul monte di lancio in questo momento storico perché appunto i Yankees hanno avuto degli infortuni mica indifferenti. In particolar modo James Paxton si è infortunato e non partirà per tutta la stagione e l'altro che non giocherà proprio per tutta la stagione sarà Luis Severino. Severino si è operato di Tommy John Surgery in una delle operazioni più importanti del mondo del baseball. Si sono cautelati comunque gli Yankees prendendo giocatori interessanti. Si possono comunque affidare a un parco di lievi interessante soprattutto per quanto riguarda Chad Green e soprattutto il missile cubano Harold East Chapman oltre che al numero 53 Zach Britton un passato ai Baltimore Orioles. Gli altri giocatori interessanti sono sicuramente il numero 26 di Jay Lemayeur che è un giocatore completo ha avuto una grandissima zona nello scorso anno, un seconda base prevalentemente di contatto che però è molto costante sia dal punto di vista offensivo sia dal punto di vista soprattutto difensivo. C'è fiducia anche in alcuni prospetti come per esempio possono essere Mikel Andukar, Gleyber Torres, Giovanni Urcella e anche Luke Voigt. Non ci sono più alcuni giocatori storici come potevano essere Incarnazione, Tempi Passati e anche altri. Quello che fa paura veramente di Yankees è il reparto esterno perché basti vedere il numero 99, Aaron Judge, uno degli slugger più potenti degli ultimi anni, rookie dell'anno del 2017, secondo me uno dei prospetti più importanti di tutto il baseball americano e anche Giancarlo Stanton, altro bombardiere che non poteva che giocare nei Bronx Bombers. Tra l'altro il manager è Aaron Boone che ha succeduto dopo tanti anni a Joe Girardi, storico manager degli Yankees. I campioni in carica, i Washington Nationals hanno di fatto tenuto l'ossatura. Nello scorso anno l'acquisto più importante in realtà è una rifirma, quella di Streven Strasburg che dalla free agency è di fatto rimasto a Washington DC firmando semplicemente più soldi. Il reparto lanciatori fa veramente paura e non poteva che essere confermato, scusatemi, Max Scherzer, Hannibal Sanchez e anche Joe Ross che sono stati quelli che hanno dato vita al titolo degli Washington Nationals la scorsa stagione. Soprattutto un Hannibal Sanchez incredibile che ha fatto numeri incredibili nella carriera, probabilmente i migliori appunto del lanciatore sudamericano. Chi sono da tenere d'occhio per gli Washington Nationals sono stati fatti degli acquisti interessanti soprattutto l'uomo d'uttile Starling Castro che è venuto via da quel merdaio che è di fatto Miami una squadra veramente in pura rifondazione. Confermato Howie Kendrick, il grande veterano. Preso Eric Thames che è un giocatore secondo me interessante, ha fatto delle comparsate ai Dodgers, ai Seattle Mariners e assolutamente è un giocatore buono che può giocare anche in esterna quello che ci sia bisogno. Il reparto esterno degli Washington Nationals è sicuramente confermato in toto Adam Eaton, grande veterano, esterno destro, Juan Soto, esterno sinistro uno dei prospetti più importanti della formazione della capitale e titolare dovrebbe essere Michael Taylor all'esterno centro. Comunque da Washington è difficile aspettare una stagione incredibile come la dell'anno scorso secondo me sono una squadra da playoff anche se la National League East sarà veramente un bagno di sangue interessante anche perché i Washington Nationals, a differenza di magari di altri division, non sono da soli. Atlanta per esempio può essere un contender interessante soprattutto perché ha già fatto una stagione importante la scorsa, quella 2019, alla guida di Brian Snicker che secondo me è un ottimo allenatore per una squadra di questo tipo il colpo importante è questo, Cole Hamels un grande veterano che è andato a Texas inizialmente per provare a vincere il titolo quando i Texas Rangers erano da playoff poi ha avuto un passato tra altre squadre e lo ricordiamo principalmente a Philadelphia nel 2008. altri giocatori interessanti, sicuramente confermato Freddie Freeman, il caralese non potrebbe che essere altrimenti attenzione a Dansby Swanson che è uno dei prospetti che ha fatto molto bene nel 2018 e anche nel 2019 ci rispetta sicuramente una crescita dal numero 7 interno dei Braves altri acquisti secondo me interessanti sono nel reparto esterni abbiamo detto nella presentazione di prima Marcel Osuna che è uno degli esterni più importanti soprattutto nella posizione di esterno centro che la Lega può offrire in questo momento quindi attenzione ad Atlanta che secondo me non ha dei grandissimi campioni a parte di nome Cole Hamels però può dare sicuramente filo da torcere ai Mets e anche ai Washington Nationals che sono nella stessa divisione chi può dare secondo me una stagione ancora di conferma sono i Tampa Bay Rays che hanno fatto una seconda posizione incredibile la scorsa stagione andando ai playoff confermando la seconda posizione del 2018 Kevin Cash veramente sta facendo un lavoro clamoroso l'ex ricevitore come avete qui degli Yankees non ci sono nomi incredibili si punta probabilmente a una squadra giovane interessante il giocatore di punta io lo vedo ancora una volta in Kevin Kiermaier esterno veramente sontuoso e clamoroso soprattutto per quanto riguarda le prese difensive poi ci sono stati questi mirati per esempio Hunter Renfro che appunto ha avuto un passato glorioso ai San Diego Padre sono dei giovani più interessanti sulla discorso ricevitori preso Mike Zunino che anche lui è un catcher di grande esperienza soprattutto un catcher di potenza ma utile anche in difesa Mike Zunino ricordiamolo viene da Seattle il giocatore sul moto di lancio da cui puntare secondo me è lui Blake Snell che è venuto da una stagione interessante nel 2019 nel 2018 addirittura ha vinto il Cy Young potrebbe essere lui il go-to guy per il monte di lancio staremo a vedere quello che combineranno i Tampa Bay Rays proseguendo nella classifica con il settimo classificato della classifica dell'apps.com ed è la squadra di Oakland degli Athletics che ancora una volta hanno in una squadra anche in questo caso giovane il loro punto di forza il go-to guy è il numero 26 Matt Chapman uno dei terza base più importanti dal punto di vista offensivo Chapman può essere secondo me il riferimento appunto della formazione californiana per il resto Oakland si fonda appunto su un core molto giovane con giocatori che magari non avranno un grande nome però insieme possono formare una stagione secondo me interessante forse da Wild Card nel playoff vedremo attenzione soprattutto al numero 22 Ramon Laureano uno dei giocatori di prospetto più interessanti di questa Lega ottavi classificati nella classifica che abbiamo visto prima quelli di lineups.com ci hanno fatto notare che i Minnesota Twins hanno fatto secondo me un buona campagna acquisti Rocco Baldelli è il manager della formazione di Minneapolis che ha avuto agli onori della rivalta l'acquisto di Kenta Maeda Kenta Maeda è andato a Minnesota dopo aver appunto scambiato Boston a Los Angeles Price e Betts da Los Angeles è andato Maeda a Minnesota e poi c'è stato uno scambio di prospetti appunto tra le altre due formazioni Maeda è probabilmente l'acquisto in più che poteva servire al Montilangio di Minnesota che ha già fatto una grandissima stagione l'anno scorso con i giocatori che aveva già per esempio mi viene in mente Jose Berrios che è da anni che gioca a Minnesota e da anni che si aspettava la sua esplosione esplosione che comunque è arrivata nella stagione scorsa per quanto riguarda i giocatori più importanti presa incredibile quella dei Minnesota Twins ovvero quella di Nelson Cruz che è un giocatore clamoroso soprattutto notiamo Josh Donaldson uno dei terzi a base preferiti della mia visione del baseball è andato ai Minnesota Twins in questa off-season ha fatto veramente una buonissima stagione l'anno scorso ad Atlanta noi ce lo ricordiamo a Toronto a Cleveland insomma ha girato veramente tanto un giocatore molto utile attenzione ai Minnesota Twins perché con Donaldson Miguel Sano Orke Polanco che non è di certo un giocatore scarso e anche Max Kepler uno degli europei più forti nel mondo dell'MLB può veramente attentare ancora una volta alla vittoria dell'American League Central e chissà probabilmente andare più avanti nei playoff chi si dovrà lottare il post ai playoff è Philadelphia che vi ripeto viene da una stagione veramente incredibile al senso contrario però fallimentare nella scorsa stagione e Joe Girardi ha trovato una nuova squadra nel senso che dopo aver girato praticamente dieci anni tutta l'America con i New York Yankees vincendo anche dei titoli tra l'altro Philadelphia punta su di lui dopo una stagione veramente orrenda lo scorso anno Philadelphia è arrivata al 50% di vittorie a malapena ed è arrivata addirittura quarta nella division a National League East una delle più combattute degli ultimi anni sicuramente Bryce Harper come dicevo dovrà riscattarsi dopo la fallimentare stagione dello scorso anno vi ricordo che Bryce Harper è andato via dai Washington National nell'anno in cui i National hanno vinto il titolo e di fatto hanno dovuto ampliare e andare miratamente sul mercato i Phillies prendendo per esempio il numero 22 Andrew McCutcheon ex Giants ex Pirates insomma uno dei giocatori più importanti dal punto di vista offensivo negli anni d'oro se Philly riesce a recuperare McCutcheon non dico prime ma almeno a metà del potenziale attenzione perché secondo me Philadelphia può crescere tantissimo altri acquisti mirati sono stati fatti nel reparto interni Didi Gregorius è andato ai Phillies dopo che ha giocato una vita per i New York Yankees e l'altro acquisto importante è Jan Segura passato glorioso ai Philadelphia scusatemi ai Milwaukee Brewers Philadelphia che comunque punta su un monte di lancio sicuramente giovane e interessante soprattutto con i lanciatori Nick Pivetta e Aaron Nola che sono stati i più importanti nella scorsa stagione acquisto altro interessante è Zach Wheeler che viene dai New York Mets acquisto questo avvenuto in free agency dei Mets parliamo adesso che sono di fatto l'ultima squadra che Lineups.com ci ha fornito come decimo prospetto assoluto per vincere il titolo e approfondiamoli questi Mets perché non solo sono la squadra per cui tifo ma comunque appunto sono stati inseriti in questa classifica il manager vi dicevo è Luis Rojas che è uno di fatto dei parenti di Moises Alou la storia di Rojas sarebbe da raccontare ma in questo video ormai non c'è più tempo i Mets devono sperare che appunto rientrino gli infortuni di lungo corso come dicevo prima soprattutto Ioannis Sespedes la cui presenza è ancora in dubbio per il 2020 voci dei New York Mets hanno detto che in realtà Sespedes dovrebbe giocare bisogna recuperare anche Michael Conforto che è arrivato comunque in questa stagione non al 100% è ancora in lista infortuni non si capisce ancora le condizioni del esterno di origine italiana è stato acquistato Jake Marisnik che è un esterno difensivo esterno destro in particolare molto molto interessante mi piace moltissimo Jake Marisnik ce l'avevo addirittura al Fante Webbo dell'anno scorso vedremo se Pete Alonso riuscirà a ripetere una stagione clamorosa come quella dell'anno scorso Pete Alonso con 50 e più fuori campo è stato classificato come ovviamente rookie dell'anno nella National League e il Polar Bear non poteva che meritarsi questo titolo ha perso purtroppo Zach Wheeler la formazione dei Mets però comunque punta su un monte di lancio che dovrebbe speriamo trovare la quadra del cerchio soprattutto perché deve esserci qualcuno dietro Jacob De Grom che è uno dei giocatori più forti sul monte di lancio non solo dei Mets ma anche dell'intera Lega c'è da sperare nel recupero di Thor Noah Syndergaard nella stagione buona di Marcus Stroman che è venuto l'anno scorso da Toronto e ora mi aspetto un salto di qualità dal numero 0 dei Mets vediamo cosa potrà combinare Rick Porsello acquisto dai Boston Red Sox non lo vedo come primo partente non ci andiamo neanche vicini probabilmente potrebbe essere un buon terzo barra quarto partente magari ad utilizzare anche come rilievo se nella remota ipotesi dei Mets ci sia quella di arrivare ai playoff comunque è una squadra interessante che dovrebbe spero puntare ai playoff e se non riuscissero ad arrivare a questo obiettivo la stagione potrebbe considerarsi abbastanza fallimentare in ogni caso questi sono i 10 team che sono stati classificati come potenziali vincitori del titolo secondo lineups.com vedremo chi sarà a ottobre il vincitore secondo voi chi potrebbe essere un potenziale da titolo visto anche lo sprint training il mercato e tutte queste variabili che fanno sicuramente adito a una classifica di questo tipo vedremo un po' vi ricordo che lo sprint training finirà il 24 di marzo e il 26 ci sarà l'opening day 2020 della stagione dell'MLB fate sapere dunque cosa ne è pensato di questo video sulla Major League Baseball americana il saluto da parte di Mettitork e ci vediamo dunque al prossimo video grazie a tutti